Bene, ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, Gorizia si veste di bianco, piazza Sant'Antonio in una coreografia veramente spettacolare con l'albergo di fronte, ecco guardate un po' l'entrata, ecco siamo in piazza Sant'Antonio, è stata appena rinnovata e qua c'è una festa mega galattica, adesso io andrò a vedere perché qua c'è l'albergo a Inturassa, ecco mi è venuto in mente, lì c'è la grande duchessa Piccolomini, Levensov e qua c'è questo mitico posto veramente che si è aperto una birreria, adesso c'è un vario ristorante, ha preso piede, ha una gioia veramente tremenda, allora io ho visto dalla piazza Vittoria arrivare queste sedie, gente con i tavolini, gente col mangiare, con tutto, una cosa veramente spettacolare in una città di Gorizia e chi dobbiamo ringraziare? La grandissima Eleonora che si è presa la briga e si è inventata questo sistema, perché ha detto io ho visto in Francia, e di fatto l'avevo visto anch'io, in Francia questa riunione di tantissima gente si sono riuniti vestiti in bianco e lei ha preso la pala al balzo e ha detto perché non fare anche a Gorizia una città? Poi sentirete dopo che l'abbiamo anche intervistata, adesso andremo a intervistare un po' di gente, ma a parte tutto tanta gente di Gorizia e tanta bella gente, ecco la nuova gente di Gorizia che praticamente potrebbe dare lustro a questa città e dare questa viva città, guardateli qua che sono venuti direttamente da piazza Vittoria, con questo, ognuno si portava il tavolino, le sedie, il mangiare, le posate, adesso sentiremo questo gioiello, attenzione, attenzione sta facendo una bella fotografia, è di Gorizia questo gioiello, da dove vieni tu? Da Gorizia, ma ne vale la pena tutto questo? Eh? Sì? Di che segno sei? Bene, bene, ciao! La salutiamo delle acquarie, ma avete visto che gioielli che ci sono, una cosa veramente fantastica, e io dico ma dove sono queste a Gorizia che non li vediamo, no? E scompaiono, adesso vado a sentire altri... Ciao, senti, ciao, da dove venite voi? Da Gorizia, da Gorizia, senti, ma anche a casa questo uomo dà una mano o no? Sì, sempre, sempre, è un buon... Un buon maritino, sì, di che segno è il maritino? È uno scorpionaccio, è uno scorpionaccio, e tu? È un toro, e invece l'angelo lì? L'angelo, il mio angioletto è un ariette, tu hai cinque stelle, ci devi dare anche noi qualcosa, eh? Va bene, ciao! Saluto questa bella famiglia e anche questo bell'angelo, e adesso andiamo a sentire un altro gioiello, andiamo a vedere... Ne vale la pena fare tutto questo discorso qua? Sì, certo, ci divertiamo... Da dove vieni tu? Da Gorizia. Da Gorizia? Ci diverti... Un amico entusiasmo, perché non abbiamo i bimbi che sono con la febbre... Ah, sono con la febbre i bimbi? Sì, il marito padre di Sitte... Bene, però... Si perde questo evento... Però è bello che c'è un uomo che si presta... Sai che è l'uomo? Sì, sì, assolutamente... Allora... Vai, fai un bel saluto ai tuoi marittini e ai tuoi bambini, va! Ciao Andrea, grazie di vincere Stefanino, che hai fatto la febbre, un bacione! Ciao! Ciao, che buona mamma! Bene, voglio salutare anche io il grande papà, e saluto anche... Ciao! Eh... che è a casa, che tiene i bambini, che oggigiorno una volta non succedeva, invece è cambiato tutto, e saluto anche il papà di lei che è un grande salto, è la mamma! Bene, allora andiamo con altri gioielli, andiamo a vedere un attimo questo giro, adesso vado a chiedere... ecco qua, andiamo a chiedere a questo bel banchetto... Ciao, senti, io vorrei sapere, no? Tu sei già sposato? No! Questo è un preparativo però, no? Beh, insomma... Come dici, potrebbe essere... sarà così quando che... C'è molto un bel evento, ecco, sicuramente... Qual è il tuo gioiello? Il tuo gioiello, il tuo amore, qual è qua? Ecco, è il mio bellissimo gioiello questo! Hai visto? È prossimo per il matrimonio, no? Speriamo... Speriamo, vediamo insomma... Bianco è già vestito perché... È di quale? Senti, dove sei? Corizio! Corizio, anche te? Di che segno sei te? Sei a posto? Lo so! Però grandi personaggi, grandi personaggi... Senti, te invece da dove vieni? Che segno sei? Innamorata vita comunque, questo è un bel segno, no? Senti, come ti è venuta questa idea di venire qua? Tutti insieme? È una cosa di diverso, con la corizio... Tuo uomo c'è? No! E allora arriverà, no? Senti, tu invece? Che segno sei? Vergine, avevamo dei momenti un po'... Adesso avevamo un po' in salita adesso... Senti, come ti chiami? Ti piace questo bel connubio con tanta gente, tutti in bianco? Sì? Siamo a fare un augurio insieme, visto che dovessi fidanzarmi... Siete fidanzati, vuoi dire? Siamo a fare un augurio per corizia... Ma certo, dai, dimmi! Siamo venuti qua per assaggiare anche un'idea nuova, una nuova idea... E questo è importante per questa città? Sì, ovviamente qualche cosa... Ma per questa è nuova, no? Senti, visto che voi siete giovani dovete dare una forza, un'energia alla città, no? Esatto, mi ha scoperto tutte le occasioni... Benissimo, di che segno è lei? Di Bergi... Perfetto, un bel connubio... Alla grande... Lui c'ha 5 stelle ed è perfetto, ci dà anche noi, tu invece? Io Stefano, Acquario... Acquario, perfetto, l'abbinamento... Questa è iniziativa molto importante per questa città, no? Sì, una bella iniziativa anche per attirare comunque i centri anche da fuori, non solo da Corino... Ho visto che da Piazza Vittoria arrivavano quelle... Sicuramente porta un po' persone qua e le facciano altre... Esatto, un po' di movimento, no? Ecco, è la... Tu? Ciao! Come ti chiami? Segno? Ecco, chi sposa un capricorno? Non resta mai senza soldi, bene, è perfetto... Io pensavo che era così... No, no, no... Capricorno... No, chi sposa un capricorno? Va da Dio, i soldi arrivano... Senti, vuoi fare un bel saluto a chi vuoi? A lui! Perfetto! Ci vediamo, ciao, eh! Ciao, ciao! Bene, allora saluto questo bel gruppo e andiamo avanti sempre con un tour, andiamo a vedere questi gruppi, queste persone che hanno portato veramente di tutto, eh! e doveva, il specifico, doveva essere tutto in bianco... E' solo per lavoro! Te invece, che c'hai questo bel look? Da dove vieni? Da Gorizia! Da Gorizia! Che segno sei, scusa? Toro! Toro, 5 stelle, eh! Hai l'annata da sballo! Ti piace questo movimento qua? Bene, è bello! Ci vuole più spesso? Ci voleva, ci voleva! Perfetto! Vuoi salutare qualcuno? Non te ne frega! De meno, va bene, grazie, ciao! Senta, lei, visto che c'è quella bella colana lì... Come si chiama? Michela! Il segno di Odiacale, Michela? Sagittario! Bene, un bel segno, da grinta, adesso avete cosa a raccogliere? Ti piace tutto questo movimento? E' bellissimo, ho l'orgoglio di Gorizia avere questa varia prestazione! Però sai cosa ho notato? Io di solito sai che sono Gorizia TV, però tutta sta bella gioventù non si vede a Gorizia! Però è bello questa riunione! No, direi di sì, direi che basta sapere andare in giro si trova! Basta andare in giro, dici tu? Va bene, ma a chi vuoi salutare? Ma nessuno è particolare, i miei amici che sono qui! Perfetto, ciao! Bene, salutiamo il sagittario! Ho notato che c'è veramente tantissima gente del toro e del cancro! Questo è anche del sagittario! Adesso andiamo a fare un'altra carellata, attenzione! Altro posto, adesso ci sarà questo brinio, ormai qua si brinda, adesso sentiremo si brinda per l'anello, lui ha detto per l'agnello, ma probabilmente per l'anello! Andiamo a sentire cosa fa! Ciao, cosa si festeggia oggi? Visto che è già stappato, cosa è che si festeggia? L'agnello! L'agnello! L'agnello? No l'anello! No, l'agnello! L'agnello! Sei prossimo per lo sposalizio? Sei prossimo per lo sposalizio? O fai i preparativi? Fai i preparativi? Sì, sì, sì! Va bene! Tu invece? Aspetta, chiama lei? Come si chiama? Elisa! Elisa dagli occhi blu! Elisa, senti! Non gli ho gli occhi blu! Va bene! Elisa! Senti, di che segno sei Elisa? Di che segno sono? Cancro, perché? Cancro, 5 stelle, perfetto! Un buon segno che ha tante stelle quest'anno! Ah sì? Sì! Ah, non lo sapevo! Eh, lo so io! Buono a sapersi! Sì, senti, ti piace tutto questo movimento? Sì, sì, è carino! È una bella iniziativa! Sei di Gorizia? Di un paese vicino! Di un paese vicino! Vuoi salutare qualcuno? Noi siamo di Gorizia TV! Ah, se vuoi salutare qualcuno? Sì! No, no! Non te ne frega! Vabbè, ciao! Ciao! Senti, tu che sei come la principessa! Sei di dove? Moraro! Moraro! Segno di dove accade? Questo! Eh, Acquario! Acquario, innamorata vita! Senti, ti piace questo movimento, questa festa? Sì, sì! Bello! È il tuo fidanzato quello lì? No! No? Lui è? No! Nessuno! Vuoi salutare qualcuno? No! Ciao! Ciao, Vale! Ah sì! Ciao, Gaia! Ciao, Gaia! Perfetto! Ciao! Bene, proseguiamo il tour e adesso andiamo, andiamo, salutava Gaia, alla fine saluta Gaia, qualcuno ha detto, non è fregaglita, ma comunque, adesso andiamo a fare sempre una bella carillata, attenzione, abbiamo l'armadio, eccolo qua! Manca qualcosa? Ho dimenticato il telecamera, man! Ah, ah, il telecamera, man! Sì! Non importa! Senti! Non so se riuscivo a trovarlo! Ma riuscirai a trovarlo! Senti, ti piace questo discorso? Come è venuta l'idea? Sì, è bellissima! Ogni anno lo facciamo, l'anno scorso eravamo a Cormons, bellissimo! A Cormons, e quest'anno? Ci ha rovinato la pioggia alle 11 di sera! Hai visto? Devi venire a Corizia per avere un sole! Oggi a Corizia è spettacolo, bellissima iniziativa! Senti, da dove vieni? Da Corizia! Da Corizia, bene, chi vuol salutare? A mamma e papà, ciao mamma! Ciao, eccoli là, perfetto! Ma guarda chi c'è, il gioiello! Eli, dell'acquario! Bene, allora andiamo avanti, ecco qua la festa, proseguiamo, sono molto imbambolato, ho visto la Eli! Bene, allora faccio una bella carillata, come vedete, ecco qua si festeggia, andiamo a vedere! Senti, noi siamo della TV di Corizia! Sei nei preparativi per il sposalizio? No, è presto per il sposalizio! È troppo presto, però hai visto che belle ciglia da Cleopatra che ha, eh? Bellissima! È il tuo uomo? Sì, è il mio uomo lui! Perfetto, siamo prossimi per il matrimonio, preparativi? No, stiamo aprendo la gelataria per quello sentito il bianco questa sera! Noi ci scherziamo! Comunque, senti, di che segno sei? Toro! Oh, guarda che sei fortunato, 5 stelle lei, eh? Lui chi è? Bilancia! Bilancia, è lui in amore, va bene, vai tranquilla, perfetto! Quindi, ottimo! Te invece? Io sono da sola, la polera! Sei libero? Eh no, la mia bella mi ha lasciato questa sera, la polera! Eh, perché ha detto, adesso andiamo a vedere lui cosa fa, se fa bene le cose! Ma non lo vuoi che vai? Vabbè, comunque vedo che avete fatto dei bei preparativi, sei di Gorizia? No, di Monfalcone! Di Monfalcone, cosa pensi di questa iniziativa? No, perché questa iniziativa è meglio farla qua anche a Monfalcone, perché Monfalcone è per me! Sì, comunque, anche per Gorizia questo bel movimento porta molto bene, vero o no? Vuoi soltare la tua fidanzata? Sì, ciao! Perfetto, Gorizia TV, ricordi! Senti, invece voi due siete due fidanzatini, giusto? Sì! Come ha preparato i piatti? Ha preparato bene, sì? Ha portato il tavolo, tutto, sì, che si vede, che c'è, no? Bene, vediamo, di che segno sei? Scorpione! Scorpione! Vai tranquillo, che ogni tanto ti darà una beccada, è perfetto! Tu invece? Capricorno! Ecco, ora, sposi un personaggio giusto, perché chi si sposa un capricorno non resta mai senza soldi! Vai tranquilla! Bene, volete fare un saluto a chi volete? Siamo a mia sorella! A tua sorella! E tu? A mia sorella e a mio fratello! Perfetto, ci vediamo! E la mamma! E la mamma è perfetta! Eccola là! La mamma! Eccola là! Ciao, ci vediamo! Buon divertimento! Bene, saluto questo bellissimo gruppo e adesso andiamo nello stile romano! Qualcino è il modello indiano, modello romano, già che nell'epoca, no? Bene, da dove vieni tu? Da Gorizia! Da Gorizia! E Ambra è l'artista del modello indiano! Ah, ho capito! Ambra, senti, ma come si starà così seduti per mangiare! Sarà un po' di difficoltà? Sì, è un po' modo, diciamo, dai! Un po' di rob, così, da picnic! Da picnic questo! Però è un modello stile classico, no? Sì, esatto! Bene, e sei da dove vieni tu? Da Gorizia! Segno dodecale? Sagittario! Bene, ciò, tirate le frecce ogni tanto! Perfetto! Bene, tu invece che sei laggiù? Sì! Come va? È stata veramente brava! Ah, è stata lei quella? Lei ha realizzato un'idea di tutto! Conviene sposarla immediatamente! Senti, il tuo fidanzato? È un addio al celibato! Addio al celibato? Sì! Ma comunque lui vedrà come ha messo a posto le cose! È perso! Come si chiama il tuo uomo? Maurizio! Maurizio, come mio figlio! Guarda che bello! Bene, hai scelto bene! Sì! Tu invece che segno sei? Leone! Leone! Una grinta potente! Vuoi salutare qualcuno? Sono di casa! Va bene! Ciao! Di Gorizia? Eccole qua! E ciao! Bene, salutiamo questa gente! E devo dire che sono tutte bellissime! Sono come attrici! Ma una cosa favolosa! Guardate anche questa donna, questa ragazza con questi occhioni! Stai già telefonando il tuo fidanzato che arrivi, che è già tutto bello pronto! Che ci porta il cibo! Ci manca il vino! Eh? Cosa ti manca? Il vino! Sì, sicuro? E questo non può non fare la pesta! Non importa! Tanto anche senza vino, cosa dici? Non va mica tanto bene! No! Di dove siete voi? Di Gorizia! Di Gorizia! Segno di locale tuo? Bilancia! Bilancia! Bene! Loro in amore! Perfetto! Tu? Leone e la spagna! Ogni tanto una bella beccada! Tu invece? Bilancia! Bilancia! Perfetto! Guarda! Ottimo! Vuoi salutare qualcuno? No! Vuoi salutare il tuo uomo? No! Neanche per cavolo! Tu il tuo uomo? No! Non te ne frega! Tu? Neanche! Va bene! Buon divertimento! Ciao! Bene! Salutiamo le tre dell'Apocalisse!